Dobbiamo ridare un forte segno all'interesse pubblico. C'è troppa, le ultime sentenze della Corte Costituzionale, secondo me bisogna fare una nuova legge di carattere urbanistico, devono ridare un equilibrio fra quello che è la dimensione privata, l'interesse privato e l'interesse pubblico. Oggi con le ultime sentenze della Corte Costituzionale espropriare costa troppo. Il meccanismo per cui la proprietà fondiare e immobiliare domina su quello che è il dato del costruire e dell'abitare è troppo forte, bisogna ritrovare un equilibrio giusto. Siamo passati da un'assoluta massificazione degli anni passati, il dominio di culture egualitarie, a dei meccanismi oggi che sono troppo frammentati. Dobbiamo ritrovare un equilibrio sostanziale.